Sono state elezioni regionali a mare per il Movimento 5 Stelle, presentatosi in coalizione con il centrosinistra a sostegno del candidato presidente Pierfrancesco Maiorino. I pentastellati hanno raccolto poco meno del 4%, finendo per riuscire a far entrare in consiglio regionale soltanto tre nomi, conto i 13 eletti nel 2018. Nessun seggio è stato conquistato nella circoscrizione di Monza e Brianza. Marco Fumagalli, consigliere regionale uscente, ha ottenuto 752 preferenze, seguito da Elisabetta Vardone con 291 e Claudio Colombo con 138. Ma in casa del Movimento 5 Stelle, oltre all'analisi del risultato ottenuto, si sta già provando a guardare avanti in vista dei prossimi impegni politici. Intanto non nascondiamoci comunque la delusione, nonostante il grandissimo impegno. Tra l'altro Conte è stato qua a Monza, ha visitato l'ospedale vecchio e avevamo pensato che puntare sul tema della sanità avrebbe sicuramente risollevato le sorti del Movimento. Abbiamo comunque tre rappresentanti in Consiglio regionale che sono validi, valgono per dieci perché sono persone veramente preparate e che sicuramente porteranno avanti le battaglie. D'altro canto è necessaria una riflessione per ripartire dai territori. Abbiamo il nostro grande Gianmarco Corbetta che è stato Consigliere regionale e poi Senatore della Repubblica che ritorna in scena, tra virgolette, dopo aver esaurito i suoi due mandati mettendosi al servizio della comunità 5 Stelle come referente provinciale. Questa è una bellissima notizia per due motivi. Prima di tutto perché stimiamo tutti Gianmarco come organizzatore e anche per i suoi contenuti, soprattutto in difesa della Costituzione. Ma anche per un altro motivo. Molte volte si parla del problema dei due mandati come di un handicap per il Movimento, ma molti hanno detto che la soluzione poteva essere quella di reinvestire, tra virgolette, le risorse umane proprio all'interno del lavoro sul territorio. Per quanto riguarda invece i contenuti vorrei sottolineare come secondo me bisogna ripartire da dei temi che toccano tutti, tra Sversale, per esempio Pedemontana, che comunque tocca in parte anche qua a Monza, la zona di Sant'Albino, che è comunque un pericolo soprattutto per la parca del prolungamento inutile e che invece quei soldi vanno investiti in un altro tipo di trasporto, soprattutto mobilità dolce e metropolitana.